Questa notizia, ragazzi, credo che si possa tranquillamente definire come una bomba atomica perché, sì, credo che ci siano gli estremi per definirla tale perché non se ne vedono certo tutti i giorni di acquisizioni di questo calibro che comportano un cambiamento così grande nel mondo videoludico e che, soprattutto, sono state fatte con questo giro di denaro Beh, io credo che l'abbiate già saputo Microsoft ha comprato Bethesda Santi Dio, quando l'ho letto non volevo crederci Ma, per la verità, Microsoft ha comprato Zenimax Media Il che è molto peggio, in realtà Cioè, è la holding che possiede, per esempio, Bethesda Softworks, ok Ma, Bethesda Game Studios, ID Software, Zenimax Online Studios, Arkane, Machine Games, Tango Gameworks, Alphadog, Roundhouse Studios che sono i team responsabili di semplici serie di successo come The Elder Scrolls, Fallout, Wolfenstein Doom, Dishonored, Prey, Quake e Starfield e l'acquisizione è costata 7.5 miliardi di dollari che è circa tre volte quanto hanno speso per Mojang e Minecraft, ragazzi Beh, è una cosa grossa, ragazzi Microsoft non ha fatto mistero di voler ampliare tantissimo la propria offerta e voler allargare tanto il suo ombrello di studi l'universo Microsoft doveva sempre di più allargarsi A dire la verità, Phil Spencer ha detto pure adesso basta perché ne hanno acquisiti veramente tanti nell'ultimo periodo quindi non è che ci saranno poi così tanti acquisti e beh, questo mi sembra rilevante Bethesda è una casa che ha prodotto tantissima roba che i giocatori hanno amato e non si tratta soltanto di Bethesda davvero, ragazzi, avete sentito parlare di Bethesda ma in realtà Microsoft ha comprato la holding di Bethesda e tanta altra gente quindi, che cosa comporta questo però in realtà? e beh, ragazzi, purtroppo non è affatto facile dirlo perché una mossa del genere prevede dei possibili cambiamenti niente affatto indifferenti che non è detto che avvengano e non è detto che avvengano nei termini che pensiamo noi per esempio Bethesda ha preso accordi per delle esclusive PS5 giusto? e Microsoft ha detto in questo caso ho già mandato il comunicato perché questa era una delle cose che più tutti si sono chiesti ovviamente che gli accordi preesistenti verranno tutti quanti onorati e questi giochi usciranno in esclusiva per PlayStation che non è poi PS5 è esclusiva PlayStation scusate, mi correggo quindi io mi immagino che se anche in questo caso va come nel passato vedremo sostanzialmente un panorama di Bethesda più tutti gli altri che rimarrà quasi invariato in questo primo periodo ma perché ci sono un sacco di cose in ballo ragazzi ci sono tanti titoli in sviluppo sono già stati presentati quindi sto cambiamento qua non può scompaginare piani industriali perché si tratta di questo che vanno avanti da molti e molti anni sarebbe una follia andrebbe contro gli interessi di Microsoft stessa no? quindi è difficile dire quali siano i cambiamenti ma io mi aspetto un un continuo di quello che abbiamo già visto per quanto riguarda queste case di sviluppo qui ma una cosa che sicuramente mi aspetto e mi pare che l'abbiano anche confermata è che i giochi suddetti arriveranno ragazzi nel Game Pass eh sì eh sì arriveranno nel Game Pass e giustamente è una bella notizia per i possessori di di Game Pass questa è veramente una bella notizia per i possessori di Game Pass e mi sta convincendo sempre di più e non è che ci volesse molto a capirlo in effetti che Microsoft vorrebbe diventare veramente la Netflix dei videogiochi e il bello è che ci sta anche riuscendo perché è notizia relativamente recente di non molto tempo fa che verso la fine dell'anno per esempio il Game Pass avrà anche EA Play dentro l'abbonamento di Electronic Arts dato che ha acquisito Bethesda e Company qualcuno subito ha detto ok va bene abbiamo capito Microsoft ha i soldi e sta investendo chi è la prossima? e uno dei nomi più ricorrenti è EA beh è possibile ragazzi a sto punto non lo ritengo improbabile perché vabbè hanno già concesso il loro abbonamento all'interno del Game Pass questo potrebbe non significare niente però certo che è una mossa un pochettino senza precedenti e poi si sa che EA naviga un po' in cattive acque o meglio o meglio diciamo che i giochi che ha sviluppato ultimamente non hanno poi avuto il risultato che speravano non tutti e alcuni sono andati bene però io non mi scorderò mai Anthem per esempio no? e non è mica stato il solo quindi Microsoft è ancora molto affamata di realtà videoludiche importanti e sta cercando di affermarsi in questo campo secondo me ancora di più alla luce del fatto che Sony ha presentato una line up di giochi che ancora una volta fa presagire un puntare tantissimo da parte di Sony verso le esclusive no? e lo capisco perché io stesso che non sono un giocatore PlayStation principalmente beh io probabilmente perlomeno proverò a quanto pare molto difficile preordinarla e averla a lancio la console ma diciamo se fisicamente ci riesco vorrei averla a lancio e portare tante belle esclusive per cui ho un certo hype devo dire e perciò ragazzi io credo che questo sia un ennesimo tassello del mosaico e una diciamo una battaglia che Microsoft e Sony stanno tenendo ormai da un pezzettino e che ha visto Sony più o meno vincitrice finora insomma in questa generazione videoludica e Microsoft sempre lì a inseguire però stavolta mi sa ragazzi che sta facendo delle mosse molto interessanti onestamente ditemi un po' cioè al momento l'offerta di Microsoft se le esclusive Sony non vi interessano al punto da volerle giocare assolutamente è onestamente molto buona in termini economici potete portarvi a casa probabilmente anche in Italia dal 2021 con un abbonamento simile a quello che fate con il telefono la console pagandola un tot al mese per un paio d'anni il che include il Game Pass per un paio d'anni quindi per tot tipo 35 euro al mese vi portate a casa la console e centinaia e centinaia di giochi accidenti ragazzi è qualcosa di grosso ma io sono molto contento non tanto perché io possiedo il Game Pass e quindi sono contento perché ci saranno ci saranno più giochi certo certo i possessori di Game Pass e comunque i clienti Microsoft chi gioca su periferiche Microsoft di varia natura quindi Xbox o PC è ovviamente contento ma la realtà è che dovremmo essere contenti tutti ragazzi perché questo tipo di concorrenza che si sta iniziando a delineare questo continuamente tallonare Sony da parte di Microsoft porterà Sony a migliorare la propria offerta l'abbiamo già visto recentemente con la PlayStation Plus Collection un per carità piccolo inizio di movimento da parte di Sony verso quella direzione ovvero chi ha PlayStation Plus su PS5 avrà accesso anche a una libreria di giochi piuttosto belli devo dire della scorsa generazione giocabili si ha il plus è un passo avanti è una cosa bella io sono stato molto contento che ci fosse questa cosa qui e vorrei che ce ne fossero di più e vorrei che le aziende si tallonassero a vicenda sempre di più perché poi ne beneficiamo noi si abbassano i prezzi migliorano i prodotti si va più veloci devo dirvi una cosa ragazzi è veramente un bel periodo per essere un videogiocatore perché ci sono all'orizzonte un sacco di cose fighe ma proprio un sacco un sacco e questa cosa è davvero notevole è davvero notevole bene ragazzi questo era tutto per oggi e io vi ho mostrato un sacco di immagini di Elder Scrolls Online oltretutto perché era il trailer più figo anche se un pochettino più vecchiotto ma ovviamente era una citazione perché sapete no? Elder Scrolls 6 queste cose qua continua questo meme chissà come andrà adesso sotto l'ombrello di Microsoft staremo a vedere voi che ne pensate ragazzi? pensate che sia stata una buona mossa? pensate che questo farà tra virgolette preoccupare Sony? pensate che Microsoft abbia invece fatto un passo falso? che il destino di Bethesda è migliore o peggiore adesso sotto l'ombrello di Microsoft? fatemi sapere un pochettino che cosa ne pensate d'accordo ragazzi? quindi direi che per oggi è tutto grazie mille per aver visto questo video e come sempre gente mi raccomando iscrivetevi al canale se ancora non l'avete fatto lasciate un like a questo video se vi è piaciuto iscrivetevi anche al secondo canale seguitemi su Twitch e qui sotto in descrizione trovate come sempre tutti i link ai miei social e community tutti i link per supportare il canale il link alla playlist con tutti quanti i video di questi mini vlog di news piccole discussioni e attualità d'accordo ragazzi? a presto